Con le relazioni di maggioranza di opposizione la discussione generale è iniziata in Consiglio regionale l'esame del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. La Giunta ha annunciato che presenterà un emendamento che recepisce alcune istanze emerse dal dibattito come quelle sull'amorosità incolpevole e il sistema neve. Si torna in aula da lunedì. Su richiesta di Forza Italia l'assessore ai diritti civili Monica Cerutti è intervenuta in aula per illustrare le politiche della Giunta regionale su gestione e inclusione delle popolazioni nomadi. Il dibattito proseguirà la prossima settimana. In chiusura di seduta l'assessore ai trasporti Francesco Balocco su richiesta del Movimento 5 Stelle è intervenuto sul servizio ferroviario metropolitano in particolare sull'estensione alla zona sud-est di Torino dai quartieri di San Paolo e Mirafiori Nord fino ai comuni limitrofi. La nuova norma per il primo soccorso pediatrico è legge. La quarta commissione riunita in legislativa ha infatti approvato la proposta che promuove la massima diffusione degli interventi diretti a bambini lattanti in situazioni di emergenza e pericolo per la loro salute. Con una seduta congiunta di quarta e sesta commissione è cominciato in consiglio l'iter della proposta di legge che istituisce percorsi e palestre salute. Tra le novità l'introduzione della settimana regionale dello sport e del benessere. Una marcia per ricordare Emanuele Artum, il giovane partigiano torinese torturato e ucciso dai fascisti nel 1944, ha attraversato il 31 marzo il quartiere San Salvario a Torino da Porta Nuova fino alla sinagoga dove, saluti dell'autorità, è seguito un momento musicale e artistico. Si intitola Cose recluse, la mostra fotografica allestita all'ufficio in relazioni con il pubblico del Consiglio regionale fino al 3 maggio. In esposizione il reportage di Daniele Robotti e Mariangela Ciceri nella casa di reclusione San Michele di Alessandria.